buongiorno a tutti oggi è lunedì 16 ottobre sono le 10.05 e stiamo aspettando di vedere se ci saranno degli effetti particolari per il dato in calendario ovvero quello dell'epc che però è stato confermato sia come attuale che come previsto finalmente inizia a fare un po di freddo e quindi sembra essere finalmente arrivato l'autunno qui prima faceva un caldo pazzesco e so che anche purtroppo dalle previsioni meteo e dei video in italia ha continuato a fare caldo tanto caldo e siamo però già a metà ottobre una roba sinceramente mai vista ma sappiamo che può essere il cambiamento climatico purtroppo e stiamo aspettando anche un'altra cosa su MIB e DAX di vedere quando chiuderà l'ottavo T-3 che è arrivato già a 39 barre su massimo 44 e quindi che può scendere fino a tra un'ora e un quarto circa da adesso a 44 ci arriviamo con la barra delle 11 e 15 oltretutto il MIB è sceso meno rispetto al DAX il DAX è precipitato quando c'è stata l'apertura dei mercati ed è iniziata la guerra tra israeliani e palestinesi casa saliti come delle schegge successivamente precipitati e siamo andati da poco in death cross peraltro abbiamo chiuso il gap up di fuga che ci ha permesso appunto di andare su come dei dannati e adesso vedremo se il primo target è quello dove potrà magari esserci un rimbalzo guardate che candela rossa sta ancora facendo e magari inizieremo ad avere un rimbalzo da qui dai 15.094 orientativamente ci sono delle cose importanti di cui parlare allora domani se avete piacere di nuovo di parlare di e di sentir parlare di analisi evoluta su qualsiasi cosa ci sarà house of trading all'ora 17.30 potete utilizzare la chat rispondere ovviamente anche ai sondaggi piuttosto che farvi venire in mente domande da proporre durante la trasmissione in modo che possiate avere le risposte che preferite oltre ad house of trading ci sarà poi anche un seminario pomeridiano sempre 17.30 o 17 comunque verso fine mese con sui squat altra cosa interessante è che a novembre a fine novembre sono stato invitato a palazzo diamante da benpe paribas per tenere un incontro sui cicli e su un'analisi evoluta direttamente dal vivo in una bella sala adesso quando avrò tutti i dettagli vi parlerò e vi proporrò appunto l'invito se volete venire a incontrarmi direttamente dal vivo sto finendo di definire anche gli ultimi dettagli con una prop e vedremo sempre novità interessanti come vi avevo promesso lo scorso anno poi ci sarà un'altra cosa interessante che finalmente arriverà perché è stato un parto partorirla e speravo che di poter dare già l'annuncio a giugno figuratevi ma anche prima ma va bene così in ogni caso ok stiamo arrivando qui anche in questo caso il tempo e il death cross ci dicono probabile atterraggio appunto attorno ai 15.095 e il tempo che a noi interessa perché se avremo una conferma della chiusura della partenza del 8 t-3 da lì saranno arrivati appunto a 38 barre su massimo 44 ok quindi massimo fino alle 11 e mezza 12 meno un quarto potremmo purtroppo ancora affondare per quanto riguarda il death cross attenzione però per quanto tempo nella realtà dei fatti potremmo affondare e qui possiamo avere chiuso il nostro inverso qui temo di sì qui è una delle possibilità ma soltanto un secondo t-3 inverso non tutto il t-2 inverso che però può essere fatto a tre tempi e anche qui possiamo mettere un bel punto di domanda perché stiamo venendo giù con delle candele che sinceramente ci ricordano esattamente che cosa vi avevo segnalato nelle precedenti analisi due weekend fa ovvero che su entrambi i mercati potrebbe esserci o una partenza diretta a V quindi discesa e ripartenza per il nuovo annuale oppure ci poteva essere una bella finta ovvero ripartenza forte, gap up di fuga perdita di volumi e discesa verso i minimi da cui siamo partiti con il rischio persino di vincolare un t-2 a ribasso quindi attenzione a dare sempre per scontate ripartenze e altre cose anche quando vedete figure di questo genere gap up di fuga perché purtroppo almeno su DAX il gap up di fuga è stato chiuso quest'oggi perentoriamente e questo è un segnale brutto di perdita di forza di perdita di volumi e tutto il resto quindi fate sempre molta attenzione a queste cose e badate a ogni singolo piccolo dettaglio per quanto riguarda il MIB qui stiamo perdendo tragicamente la media mobile a 200 periodi in blu stiamo provando anche qui ad allungare fino a questo livello 27.954 stiamo indietro sul settimanale di inverso perché non può aver chiuso da queste parti ma ha chiuso qui a 44 barre esatte e quindi adesso può fare quello che desidera per fare un rimbalzo per andare in chiusura di un secondo ciclo giornaliero inverso che è arrivato solo a 14 barre su minimo su minimo 24 quindi ancora 10 barre da 15 minuti da farsi ok? c'è del tempo noi stiamo aspettando il nostro eccesso e ribasso per valutare se andare a rialzo per tanti motivi il primo è che se chiudesse il nostro T settimanale potremmo avere un forte rimbalzo e andare a negare un death cross che però qui non c'è ok? mentre invece su DAX c'è già infatti DAX sta perdendo tanto rapidamente forza ed avrei meno voglia di provare un tecnica 2 long intanto comunque guarderemo ai ai livelli di algoritmo a quel punto sapremo determinate cose avremo i target che ci vengono date sempre dal tecnica 2 i due target e a quel punto ragioneremo anche di come muoverci ultima cosa se non vi funzionano bene le gli avvisi del canale youtube ricordatevi sempre che c'è anche il canale telegram per cui se vi fa più comodo sul cellulare avere una notifica da telegram saprete sempre se vi iscrivete al canale quando uscirà un nuovo video mattina pomeriggio sera e notte ok direi che è tutto vi ringrazio per il vostro tempo e vediamo cosa ci dirà anche l'algoritmo e ragioneremo se valutare di andare long perché magari si invertirà esattamente come è stato da qui a qui oppure se essere prudenti e con il rischio che parta una ripartenza a W che farà finte di scarso rilievo a rialzo per poi tornare a scendere con più propotenza ok buona giornata a tutti arrivederci grazie Grazie.